Il Comitato Camminatori Gelesi ha organizzato per domenica prossima una camminata veloce, una via di mezzo tra la podistica e la camminata, un altro modo di fare sport amatoriale nato negli Stati Uniti nella metà degli anni 90 e domenica prossima vedrà coinvolti tutti i cittadini gelesi nella camminata per la pace. Una camminata che partirà da Piazza della Pace a lungo mare est di Macchitella fino ad arrivare all'altopiano del parco di Montelungo. In memoria di tutte quelle persone, nata e cresciuta Gela, morte a causa di patologie tumorali. Il Comitato Camminatori Gelesi da tempo si riunisce la domenica mattina per percorsi che vanno dai 14 ai 20 km esplorando sentieri pieni di vegetazioni sboschive dove si respira l'aria pura a 360 gradi. Passeggiate che oltre ad ammirare la natura servono a prevenire le malattie cardiovascolari. Allora l'appuntamento è con tutti i Gelesi per domenica 20 dicembre alle 9 in Piazza della Pace per la camminata per la pace.